Presidente Bitonci, la Lega Nord che proposta di legge presenta in Senato? Abbiamo depositato proprio oggi una proposta di legge per regolamentare la prostituzione. Io penso che sia giunto il momento di non nascondere più la testa sotto la sabbia. Questo è un problema reale che va affrontato, va affrontato con una proposta unitaria. Noi vogliamo che queste ragazze sfruttate vadano via dalla strada e che venga regolamentata in maniera definitiva la possibilità di prostituirsi all'interno anche di abitazioni ovviamente abitazioni dove dessi consenso di tutti quanti i condomini o comunque non vicini a posti dove vivono altre persone con l'autorizzazione della questura con dei controlli igienico-sanitari e alla fine, che penso che sia anche questa una cosa molto importante con il pagamento delle tasse come facciamo tutti noi. Il 75% degli italiani è d'accordo su questa nostra proposta. Noi faremo di tutto perché venga velocemente calendarizzata in Commissione Giustizia. Pensiamo che sia una proposta importante anche in questo momento di crisi perché una legalizzazione della prostituzione assieme a una regolamentazione anche fiscale potrebbe portare, secondo una prima analisi, ai 4-5 miliardi all'anno di nuove entrate fiscali. Ovviamente questo è un effetto collaterale, però potrebbe portare a una diminuzione dell'IVA o alla non applicazione effettiva dell'IMU. È un tabù però in Italia. Più volte è stato presentato un disegno in legge di questo tipo ma mai si è arrivati in aula a discuterlo. C'è un problema demagogico e strumentale sulla questione della prostituzione. C'è qualcuno che preferisce nascondersi dietro un dito o far finto che non esista un problema così grave. In realtà proprio regolamentando e facendo in modo che le ragazze o le persone possano farlo in maniera totalmente libera senza l'oppressione della mafia, delle organizzazioni criminali e dello sfruttamento che viene anche dall'estero senza la tratta delle schiave si possa arrivare a colpire proprio questa cosa infamante che vediamo tutti i giorni nelle strade delle grandi città.